Prendiamo tutto in live, sai che figata? Fico, fico. Dici, dici qualche idea, dicci un po'. Ma vabbè, la prima cosa ovviamente, a parte voi con le pareti nere è una follia, perché il nero si sa cosa fa. Merito dito dubbi, cioè io, la prima cosa, no? No, no, nero, nero è fighissimo. Io faccio a zì, però il nero, cioè, nel senso che si vede in cazzo, non ti preoccupare, è fighissimo. Adesso questo mi dissocio da quello che sto per dire, ma parlo di colori della parete. Le due cose da evitare sono il nero e il bianco. Cioè, effettivamente... Però pure il tempo non ti sociali, sei stato equilibrato. Sì, sì, però ho dovuto sottolineare tante volte che, visto il periodo, non è proprio facile, no? Allora io, ai tempi... Simone è diventato un mung. Se quello che volete dire può ferire... Tranne quando è contro Marco Crepaldi, no? Ovviamente queste sono cose sacrosante. Però giustamente Anna ha aggiunto tutte quante le minacce, tutti gli insulti rivolti a Marco. Che in questo caso, però, non vengono condannati dal capo. Ma certo, è quello che dici, Mederata. Non vengono condannati! No, no. Ah sì, passami un po' la palla. Fammi se tu passaggi da circo. Vabbè, un attimo, no? Così. Siamo pari. Dai, fa cosa sti tu palleggi. Il terrore negli occhi. Facciamo tipo... Hai fatto tipo te maschere, tu usciti fuori gli occhi dalle orbite. Ah sì, tipo la poca monaca. Siamo un circo. Hai mai visto, allora, Amaro Montenegro, la pubblicità, no? I tizi figli sull'aereo che vanno a salvare il vaso, l'antico vaso. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta. Amaro Montenegro. Sapore vero. Ma perché non fanno vedere a uno che sbanda proprio la testa a terra, sta auttombriaca e dice Maroni, sto capendo niente, portatemi in ospedale. Maroni, sto capendo niente, portatemi in ospedale. Amaro Montenegro. Sapore vero. Amaro Montenegro. Perché la pubblicità ti va a vedere il tipo figo che va sull'aereo a salvare il cazzo di vaso? Quella non è indannevole. Tu ti compri una bottiglia di questa, te la bevi. Cioè, non è che è cattiveria. Stasera tutti a zoccole! Capire o no? Lo vuoi capire o no? Sono il fottuto messia, testa di cazzo. Te nasconditi tra sta cosa del zio. Ma che cazzo hai, coglione? Sono il fottuto messia, sono io. Sono il zio del Cerbero Podcast. Il comitato internazionale. E il gomblotto del George Floyd. E chi cazzo è? No. Giallù. Chi? George Floyd? George Floyd. Quello di Wink Floyd. Scusa, scusa. Don Vito, mi scusi. Posso farle una domanda? Mi dica. Ma non c'hai un cazzo da fare tutte le sere che sei sempre su Discord? Aspettà che questi te chiamano. Ma creati una tua immagine, Don Vito. Non vivere alla merce di questi signori. Porca madonna, Don Vito. Hai rotto il cazzo. Ehi, brutta coppia di Hitman, brutta coppia di Hitman, brutta coppia di Hitman. Senti a me, è un mese che non ci vado su Discord. NEMICO! LA VITA È IL NEMICO! Che cazzo! ZENZI, NON STACCIOTO! NOOOO! No, ti amo! Gli voglio bene a ZEN... Ah, scusa. Dove sono finito? Che sta succedendo? Duce... No, che neve! Luce, stai ricevendo. Cioè, il duce è la tua luce. No! No, che neve! Ti guardavo... Ma no, sei mossa tipo... Mamma mia, no, pericolo... Stai in bilico. Stai in bilico, tra santi e falsi dèi. Stavo lì. Sono retto da un'insensata voglia di Wendingo. Di Wendingo. Allora, ragazzi... Ci sono più meme che parole, comunque. Ah, perché tu sei del nord, giustamente. Io sono terrone, quindi tu sei più italico. Io sono centro, Perugia, Perugia. Ah, Perugia. Penso che è cool che c'avete a Perugia. Sembra la Walt Disney, Perugia. Sembra un cappello di Walt Disney. Che è cool. C'avete un acqua edotto? Non so che funge da ponte, pensa quanto cazzo sta davanti a Perugia. Che cazzo c'entra? No, per dire quanto sta davanti a Perugia. Comunque... Cazzo, che me l'aiuto? Che cosa fa? Vai, vai, vai. Passa. Ma sei pazzo? Sei pazzo? Ma lei è pazzo. Sei scemo? Oh, ma chi dà? Perché sta cosa? Mettete sport nelle tag? Mettete sport nelle tag? Vai, si copia! Non ho parole per questa cosa. Adesso comincio ad incazzare perché questa cosa... Precidazione, comunque. È gravissima. Cioè, lei si è permessa di dire... Non mi seguo, è su Instagram. Ho visto, è quella storia. Perché hanno le taccino i miei contenuti. Era un amico di Trump da quando... Da vent'anni. Ma è stato confermato sta cosa. Lui è stato confermato... Il cartel del tutto. E Einstein è stato proprio arrestato... Lui a... Weinstein. Weinstein. No, no, no. Non ho capito. Ma BKM è miei, capirai. E miei... No, Einstein. Einstein è un altro. Sono due. Non mi ha sentito. Ma... Ma BKLabe. No, no. Greve. Ricordo... 8 minuti di silenzio. Quando stavo, tipo, in Abruzzo... Stavo io e lui... Eh, racconto. Allora stavo io in Abruzzo, una fiera organizzata da Delli. C'era un BKLabe, il Teramo Comics, Pino Quoz, eccetera. E Simone faceva il presentatore assieme a Pino. Vabbè, presenta tutti e poi fa... E abbiamo finalmente l'Harvey... Ah no. In America hanno Harvey Weinstein e qui abbiamo BKLabe. E poi posso dire un'ultima cosa, perché penso che vi ho rubato troppo tempo. Dovete tornare a blastare tutti. Cioè, come facevate su YouTube? Vi prego. Io mi sono abbonato un mese fa e vorrei vedere che dovete rovinare la vita le persone. Non lo dovete fare, vi prego. Ma lei è un criminale. Ma poi ci vuole. Non è il cazzo, è un sadico. Un sadico. No, perché... Pubblicamente... C'è lei mi ha offesa... Mi ha offesa... Mi ha offesa... Pubblicamente... No, no, no... Non è il cazzo... No, no... No, no... No, no... Graeme, passa dalla parte del torto con un attimo. Sì! Ma dove sei? Prova sassà, ecco. Ma con cosa sei live? Prova sassà. Amore. Amore, che sei live? Sì, mamma, mi hanno detto. Amore. Della famosa. Della famosa. Della famosa. Amore. Amore. Dai. I robinieri però si sono attivati tempestivamente e i giornali hanno titolato sgominata banda di truffatori seriali. Ma l'irridente truffatore fa lo smargiasso e manda dei messaggi vocali alle sue vittime. Non so che peggio ancora. Siamo portabandiere del body shaming. Ma non è bullissimo. Body shaming. Andiamolo a cercare. Ha detto che loro non bullizzano ma fanno body shaming. No, anzi, non ci posso credere. Luke, dimmi che stai trollando. Luke, diventi il mio idolo numero uno, ti prego. Vabbè, finiamo sto video, dai. Eh dai, dur dura solo 20 minuti. Vediamocelo mettendo in pausa. Devo dire solo una cosa. Devo dire solo una cosa. Devo dire una cosa. Che comunque, in realtà, in realtà mi fa pure piacere, eh. Posso dire. E che ridi? È quello che hai detto tu. Dicomi. Volevo dire, sulla sigla, ma l'ultima parte, quella dove c'è la chitarra, è fatta male apposta? Porca troia. Io mi discorso completamente da quella sigla di merda che è stata messa. La prima cosa che farò quando tornerò alla chitarra è Cestinano. C'è un'idea cosa hai fatto male apposta. Ok, Yux. Mail. Hi-him. Hi-him. Parla come mangi! Ma che ti fa? Hi-him! No, ma... Hi-him! Per me, loro possono mettere tutte le targhette del mondo. Però posso dire una cosa. Per me, loro sono in qualche modo da me cliccare? È questa cosa. L'unica di casa, è quella che sono in un po' di più. Sì, in un po' di più. Sì, in un po' di più. My, loro non sono in una sua sentenza, non sono in una relazione, ma sono in un po' di più. 然後 sei in un po' di più. Sì, in un po' di più. Ciò, io penso dentro. Mi domeniamo una cosa.